Ciao, buongiorno e ben ritrovati. Oggi parliamo di un gruppo di giovani bolognesi che hanno dato vita a Open DDB, una piattaforma on demand di opere indipendenti, per opere intendiamo film, documentari, adesso anche libri, musica e inchieste giornalistiche. Tra i fondatori c'è un ospite che gli spettatori di Letto Tra Noi già conoscono perché è un regista, abbiamo parlato in passato anche dei suoi film, Andrea Paco Mariani, buongiorno e bentornato. Andrea, abbiamo detto una piattaforma europea dedicata a opere creative, come funziona? La nuova piattaforma prende corpo dalle radici della vecchia distribuzione dal basso che appunto si è mossa in questi anni e il punto centrale è che tutto l'immaginario da un lato e i meccanismi e i modelli che porta avanti la piattaforma da novembre del 2016 si sono appunto trasformati in un network che ha travalicato i confini nazionali. Abbiamo fatto questo grazie anche alla vittoria del bando che fare del 2015 all'interno del progetto Baumhaus Network e la cosa importante è che appunto riuscendo adesso a parlare più lingue riusciamo da un lato allargare e ingrandire la comunità delle persone, degli utenti e delle realtà che negli anni si sono avvicinate al progetto anche dal punto di vista di poter utilizzare, riutilizzare e proiettare i materiali che proponiamo. Dall'altra parte ed è altrettanto importante adesso appunto stiamo iniziando ad ospitare anche progetti di autori indipendenti dall'estero perché appunto OpenDDB principalmente si occupa di creare come già sta facendo in questi anni un network di progettisti indipendenti di vario tipo appunto come dicevi giustamente prima all'inizio solo documentaristi ma oggi anche tanto altro perché il filo conduttore è proprio quello di unire le sinergie che poi generano anche tutta un'altra serie di aspetti positivi e di collaborazione anche di lungo periodo tra queste sinergie. Ecco le parole chiave insomma sono un'economia etica sostenibile perché questi sono i punti fondamentali indipendenti insomma ci sono diciamo argomenti o comunque tipi di produzione che purtroppo non trovano dei canali di distribuzione diciamo normali ecco nella grande distribuzione vuoi un po' magari per i temi magari particolarmente scomodi che vengono trattati e questo non riguarda soltanto le inchieste giornalistiche perché ci sono anche film e documentari che vanno a scavare in situazioni che non sono conosciute al grande pubblico ma non sono conosciute proprio perché non trovano degli altri canali. Esatto qua secondo me inizia a delinearsi con chiarezza un errore primordiale e cioè pensare che il pubblico generalista o meno non sia interessato o pronto a tutta quella galassia di produzioni documentaristiche più o meno indipendenti perché adesso qui chiaramente il discorso è più ampio ma io credo che ormai sia abbastanza evidente non solo che il documentario non è più solo quello delle tigri della Malesia quindi non si parla più del documentario sugli animali ma si è andati un bel po' oltre ma oggi si è arrivati anche in Italia a dei livelli qualitativi e competitivi con il cinema di finzione molto alti e quindi mi viene da dire forse è più una difficoltà legata ai temi trattati ma guardando anche la nostra esperienza per quanto piccola possa essere in realtà anche c'è fame di questi tipo di progetti, di questo tipo di documentari e di questo tipo di forme di narrazione che vanno a raccontare storie che appunto la grande produzione o distribuzione cinematografica non tocca per paura di non fare botteghino fondamentalmente noi ci inseriamo tra le varie contraddizioni anche in questa proprio perché negli anni e soprattutto in questa fase dove paradossalmente gli strumenti di produzione sono molto più portata di mano di 40 anni fa c'è più difficoltà nel poi poter diffondere le proprie opere da un lato il crowdfunding in questi anni sebbene non ancora in forma completamente matura però ha dato la possibilità a tante esperienze di poter concretamente produrre un film, un libro e quant'altro un progetto musicale l'altra sfida, la successiva sfida che invece è ancora in fase di elaborazione è proprio quello di dire ok adesso vediamo se c'è la possibilità di costruire una comunità di persone di relazioni che fa in modo che quel film possa circolare attraverso gli strumenti web e il passaparola che per noi rimane un punto chiave della nostra distribuzione e lo dicevi anche tu non soltanto in Italia adesso io guarderei il promo di OpenDDB che così già sintetizzato andiamo al cuore del progetto promo peraltro che c'è in diverse lingue proprio perché stiamo parlando di un progetto che ha avarcato i confini dell'Italia e insomma è arrivato in tutta Europa per cui c'è anche la possibilità di scambio di vedere anche che cosa succede al di là dei nostri confini visto che di confini si parla sempre in un modo non bello invece qua diciamo si abbattono questi confini almeno per quanto riguarda proprio lo scambio culturale grazie a tutti ecco abbiamo visto una rete in continua crescita come avviene lo scambio? c'è uno scambio culturale tu hai sottolineato insomma che anche da parte del consumatore ci deve essere un certo tipo di approccio anche il consumatore diventa un consumatore consapevole cioè come avviene questo scambio su questa piattaforma? sì la cosa molto importante e anche molto piacevole che in questi anni abbiamo sperimentato perché questo veniva anche prima della trasformazione nel nuovo portale è proprio quella di avere costruito un modello di sostenibilità alternativa e basato appunto su una relazione orizzontale e responsabilizzata con i nostri utenti in sostanza questo significa che qualsiasi opera voi andate appunto a ricercare sul nostro catalogo noi titolo per titolo, progetto per progetto, formato per formato segnaliamo quello che è secondo noi la cifra adatta che va donata per accedere a quell'opera ma poi è l'utente finale che decide quando donare questo sebbene ha soprattutto inizialmente spaventato molti perché appunto andava un po' a sgretolare le logiche stesse di funzionamento dello scambio economico bene in realtà con i meccanismi odierni sta generando delle cose molto interessanti perché tu da un lato riesci a garantire comunque un'accessibilità anche a chi magari non può permettersi i famosi 8-9 euro al cinema per esempio e questo dal tuo punto di vista di autore indipendente è comunque importante perché c'è una dimensione etica ma c'è anche una dimensione che rafforza quel famoso passaparola di cui parlavo prima dall'altra parte però il fatto che la donazione rimane aperta si sottovaluta dal fatto che ci sono anche utenti che donano di più e molto di più in certi casi di quello che noi suggeriamo e questo nell'economia del suo insieme va anche a riequilibrare poi quello che è la sostenibilità chiaramente possono sembrare belle parole molto di prospettiva utopica io credo che se noi siamo attivi da 4 anni e ci siamo aperti ulteriormente a una stagione transnazionale europea forse questa è già una risposta forse funziona evidentemente e quindi la cosa molto importante è proprio che nel luogo più diciamo dove in questi anni le relazioni tra le persone si stanno sbriciolando velocemente cioè il web e quindi è il luogo diciamo più di responsabilizzato in assoluto che c'è in questo momento si può e si deve tentare di costruire invece dei meccanismi di relazione normale tra persone e soprattutto relazioni responsabili a volte credo che si dia troppo per scontato che la gente voglia far finta di non capire come stanno le cose se alle persone provi a metterle in condizione di capire in profondità perché fai un certo tipo di scelta e come intendi sostenerla e svilupparla magari invece dicono ti danno anche ragione si torna anche al discorso precedente di non trovare determinati canali si dà per scontato che le persone non siano interessate a vedere determinate cose nella tv generalista diciamo in realtà le volte che qualcuno ha avuto il coraggio comunque magari di mettere in prima serata un documentario con argomenti importanti poi la risposta c'è stata insomma avere quel coraggio lì come avete avuto voi di dire no, non è un'utopia che lo scambio possa avvenire in modo assolutamente consapevole poi avete avuto la dimostrazione che questo è possibile sì, a volte, a volte, anzi noi crediamo che sia anche molto importante mettere sempre le cose molto chiare sui nostri meccanismi e sui nostri strumenti che usiamo quindi su tutti i nostri progetti e siti in generale le persone sono sempre messe in condizione di capire precisamente tutti questi passaggi anche perché non è solo un discorso di trasparenza è anche un discorso di coerenza nel senso che prendiamo ad esempio il crowfunding il crowfunding è da un lato una metodologia alternativa di sostenibilità e di fattibilità di produzione però dall'altra parte almeno quel tipo di crowfunding che noi abbiamo sperimentato fa anche leva diciamo su la costruzione di una comunità di appartenenza di una comunità di intenti, di persone, realtà, associazioni e quant'altro che uniscono le forze anche economicamente perché ritengono che quel tal progetto sia importante che esca se tu invece stai un po' diciamo volutamente metti un piede in due scarpe come si dice questa cosa non è detto che paghi nel senso che se tu coinvolgi con un crowfunding persone, realtà e quant'altro e poi però un domani fai finta di nulla dici che l'opera è esclusivamente tua e che puoi vederla solo pagando quei 9 euro di ingresso al cinema tu spezzi e deludi completamente questa comunità di riferimento e la volta successiva ovviamente per quanto potrà essere bello il tuo progetto ti dirà vabbè ma se tu mi hai fatto semplicemente una prevendita tanto valeva che me la compravo su un sito online di prevendite come fosse un concerto pop qualsiasi Parlare appunto tu di crowdfunding tu stai producendo, stai dirigendo e producendo un film proprio attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso dove peraltro ci ha segnato tutto, non so, i costi di produzione e via dicendo un film che si chiama The Harvest il raccolto sul caporalato nell'agropontino guardiamo subito un piccolo estratto e poi raccontiamo la storia di questo film o meglio il prosieguo della storia perché poi noi raccontammo a suo tempo insomma l'inizio di questo lavoro vediamolo insieme The Harvest è un intreccio di storie storie di persone, di famiglie, di lavoratori che vengono sfruttate nei campi storie di caporalato agricolo, storie di violenza storie che avvengono oggi nel nostro paese all'insaputa di molti The Harvest è il film che le racconta attraverso gli occhi e le parole delle comunità Sikh che abitano la zona dell'agropontino quando abbiamo scoperto queste storie abbiamo subito capito che era urgente portarle alla luce e lo faremo con i nostri strumenti quelli del documentario e del cinema indipendente il film uscirà nel 2017 e per portarlo a termine abbiamo bisogno di circa 60.000 euro con questo budget affronteremo le spese vive ma pagheremo anche il lavoro di tutte le persone che aiuteranno la costruzione del progetto la coproduzione popolare è il nostro modello di sostenibilità raccontare storie che rimangono fuori dai media mainstream e farvi in maniera indipendente per questo chiediamo il tuo aiuto se credi nel nostro progetto sostienici con una donazione secondo le modalità troverai sul nostro sito di caporalato si deve parlare aiutaci a farlo coproduzione popolare cioè chi contribuisce a questo film di fatto sta facendo il produttore anche di un'opera che un pezzettino sarà anche sua esatto sarà anche sua nel senso che non solo appunto noi come dicevi tu adesso pezzettino per pezzettino costruiamo una sostenibilità alternativa perché comunque riteniamo che il lavoro delle persone vada pagato e non si può pensare di basarlo solo sul volontariato puoi farlo una volta due la terza non è giusto diciamo a seconda delle contingenze ma coproduzione popolare proprio perché l'utilizzo anche di una serie di licenze che sono quelle che stanno alla base della nostra produzione e della nostra distribuzione digitale quindi il creative common permette di concepire anche un modo diverso di immaginare il diritto d'autore che non significa abbatterlo assolutamente creative common non significa questo significa che l'opera assume una connotazione più collettiva, popolare eccetera per cui davvero quella lunga lista di coproduttrici e coproduttori che poi vanno a comporre la comunità del film non solo per noi significa raggiungere un obiettivo di legittimità politica, sociale come lo vogliamo chiamare sul progetto ma dall'altra parte è anche una grossa comunità che poi in qualche maniera seguendo il progetto nei mesi di lavorazione va a costruire anche quei meccanismi di attesa poi diciamo quando il film esce e anche a sostenere quel fitto passaparola tra le realtà territoriali e locali che poi va a sostenere anche la distribuzione sui territori di un'opera tutto questo ovviamente su progetti come questo tipo è ovvio che a noi fa piacere che questo accada perché è il nostro film perché ne siamo contenti saremmo, come si dice, scorretti se non ammettessimo anche questo aspetto ma però è un aspetto secondario l'aspetto principale rimane il fatto che su questo tipo di progetti tu stai cercando di portare alla luce una storia che non si conosce e tutto quello che c'è all'interno di questa storia e tutte le problematicità e il livello anche poi di denuncia che tu stai costruendo su questa storia per cui più tutti questi meccanismi funzionano più tu vai a raggiungere quello che poi è l'obiettivo principale da documentarista dell'opera che stai facendo cioè portare alla luce una storia che non si conosce che tu senti l'urgenza di far conoscere il più possibile a più persone possibile e in più territori possibile questo è l'anima del ragionamento della campagna di coproduzione popolare in generale e del crowdfunding come lo intendiamo noi poi chiaramente risponde anche all'esigenza di trovare nuove strategie di sostenibilità ma le due cose non sono né la priorità sull'altra né tantomeno impreche infindibili si fondono perfettamente noi ci eravamo visti anni fa quando erano iniziate le riprese di The Harvest insomma tutto era cominciato con un grande sciopero dei lavoratori SIC tra i primi scioperi di lavoratori dell'agropontino, del caporalato eccetera da lì poi erano iniziate le riprese il racconto insomma ci eravamo visti allora era già attivo il crowdfunding in realtà in questi anni The Harvest è arrivato a tantissime persone tanto che voi insomma di fatto siete un po' in tour in questo momento proprio per andare a conoscere tutte le persone che vi stanno sostenendo e farvi conoscere anche a chi magari invece ancora non vi conosce insomma è nata proprio una grande comunità estesa che va da nord a sud perché state un po' andando dappertutto sì esatto questa fase di tournée che si chiuderà ad aprile di quest'anno a fine aprile e probabilmente con una grossa data su Bologna che adesso non possiamo ancora diciamo troppo svelare è finalizzata a coniugare tutta la fase diciamo che noi consideriamo più offline delle nostre campagne nel senso che noi abbiamo sempre cercato già in passato ma soprattutto su questo progetto di lavorare tanto sull'online sulle relazioni online sulla diffusione online della campagna ma senza mai dimenticare la potenza e l'importanza che ha tuttora la fase online di queste relazioni per cui noi da luglio dell'anno scorso appena terminato il set perché il set del film è stato chiuso a fine giugno del 2016 abbiamo immediatamente iniziato una fase di socializzazione del progetto perché questa è una sorta di pre-tournée perché poi la tournée del film si avvierà a film concluso e presumibilmente il film uscirà a fine settembre del 2016 di quest'anno quindi nel senso ormai siamo abbastanza avviati sull'uscita e questa prima fase invece ci serve proprio per di nuovo coniugare questi due aspetti da un lato la fattibilità economica perché sono iniziative territoriali che noi facciamo esplicitamente spiegandola alle persone anche per raccogliere fondi da destinare al film ma dall'altra parte costruire appunto questa comunità che più è complessa più eterogena e più è eterogena anche dal punto di vista dei territori più poi sarà una comunità che abbracciando il progetto stesso ci aiuterà successivamente a fare in modo che questo film sia visto il più possibile in tutti i contesti possibili in tutti i territori possibili attualmente la comunità delle coproduttrici e dei coproduttori ha recentemente superato le 250 presenze quindi una comunità già abbastanza eterogenea e grande e contiamo di proseguire in questi mesi ecco e io insomma consiglio anche di frequentare il sito di The Harvest perché poi ci sono tante clip da vedere e da gustare e anche poi a proposito della trasparenza di cui parlavi esattamente il budget che serve e a cosa serve a proposito insomma del fatto che tante persone lavorano un film sempre e giustamente queste persone vanno retribuite perché il lavoro viene pagato e a proposito di tour anche OpenDDV andrà in tour insomma sempre per incontrare e accogliere nuovi autori sì anche da questo punto di vista rimane valido il discorso che ti facevo prima sull'importanza anche delle relazioni offline e delle relazioni poi diciamo umane e si apre adesso infatti una fase che occuperà i prossimi mesi dove cercheremo di anche attraverso iniziative pubbliche di rafforzare questa nascente comunità non più nazionale appunto ma più con un respiro europeo con una serie di iniziative anche in altri territori faremo anche due iniziative grosse sull'Italia sempre per questo tour di OpenDDV e ci sarà un'iniziativa in Puglia e una in Sicilia nel mese di febbraio ma sempre nel mese di febbraio partiremo con queste invece iniziative più di ampio respiro e faremo una prima data il 10 di febbraio a Bruxelles dove abbiamo già un bel gruppo avviato che si sta diciamo occupando proprio di queste relazioni territoriali e una seconda data a fine febbraio a Marsiglia per voi insomma che siete comunque dei creativi tu sei un regista sei un produttore è comunque anche un arricchimento conoscere altri creativi altri registi altri metodi di comunicazione che poi tante volte cambiano da paese a paese quindi suppongo sia anche stimolante non solo della diffusione di un'opera ma anche della creatività questo incontrarsi e vedere le opere altrui sì sì sotto diversi profili questa cosa è molto importante perché tu vedi anche come per esempio si sviluppa ad esempio nel nostro ambito del cinematografico il cinema è indipendente in altri contesti il contesto francese o anche il contesto belga è completamente diverso infatti questo è incuriosiva sia da un punto di vista dei linguaggi perché chiaramente anche come il tipo di linguaggio che usi il tipo di identità che crei attorno al tuo progetto non è esattamente come la nostra e questo è molto interessante ma anche come dicevi tu dal punto di vista di come ti approcci a tutta questa situazione nella consapevolezza che siamo in generale in una fase di contrazione per cui non è un problema solo dell'Italia il fatto che gli indipendenti non abbiano un proprio spazio di agibilità però vediamo che all'estero per esempio questa cosa succede in maniera molto diversa il contesto per esempio belga che ci aveva molto colpito era che loro non avevano tanto problemi di produzione quindi il crowdfunding non era una stretta necessità perché riuscivano e riescono ancora ad avere accesso a tutta una serie di forme di sostegno pubblico principalmente che non rende necessario l'utilizzo di altre modalità di finanziamento però paradossalmente il loro problema è che non solo dal punto di vista pratico ma anche quasi psicologico riuscendo ad ottenere questa cosa dicevano non si ponevano nemmeno il problema di cosa succedeva dopo nel senso che il loro obiettivo era raggiunto ho fatto il mio film ho chiuso dal punto di vista economico e sono a posto così e invece paradossalmente poi quel film finiva in un cassetto e quindi scoprire che non solo c'erano dei metodi alternativi ma c'erano semplicemente dei metodi per fare in modo che poi quel film venisse visto al di là dell'economia o meno che poteva generare apriva degli scenari che molti di questi autori non si erano nemmeno posti di perché poi in questi casi sono solamente i grossi le grosse piattaforme generaliste che ti danno magari anche lo spazio di cioè grosse piattaforme online di quelle appunto che tutti conosciamo e non è che ti dicono a te autore indipendente no non puoi entrare però semplicemente sei buttato dentro un gigantesco calderone di cose dove ovvio che l'attenzione del grosso del pubblico non andrà sul tuo progetto perché non sei all'interno di un percorso che ha una sua identità sei in un calderone generalista e in quel caso se non sei appunto una grossa produzione cinematografica magari di cine panettone o cose di questo tipo è difficilmente poi sei dentro ma è come se non esistessi in qualche maniera bene insomma abbiamo scoperto anche tutta una serie di altre potenzialità di questa piattaforma OpenDB anche questa contaminazione insomma è molto bella il fatto che ci sia un po' tutta Europa e ci sia la possibilità di confrontarsi e anche appunto di partecipare attivamente con un consumo consapevole delle opere di ingegno io ringrazio tantissimo Andrea Paco Mariani per essere stato con noi grazie a voi e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa alla linea torna alla regia grazie a tutti grazie a tutti